E il Covid dilaga in provincia di Chieti, tavolo in prefettura con i sindaci rigorosamente collegati in videoconferenza. Per noi Alice Cercone. Nella metà dei centri sono stati superati 2.000 contagi ogni 100.000 abitanti, però non sono state disposte misure specifiche per i singoli comuni? No, perché si ritiene che il problema riguarda un po' l'intera provincia. Gli spostamenti dovuti al lavoro, alla scuola e a quant'altro non fanno ritenere necessaria un'adozione di un focus mirato su un comune. Disposta invece una stretta nei luoghi della Movida. Oggi ero presente in videoconferenza delle Forze dell'Ordine e ho raccomandato loro ancora una volta di guardare con attenzione quei momenti, laddove ci sono assembramenti che non hanno senso di esistere. In provincia di Chieti il tasso di crescita di contagi più alto di tutta Italia. Incidenza media dei casi positivi del 3,67%, ma si arriva anche a numeri a due cifre, oltre il 17% a quadri più del 12% a Monteferrante. Situazione affrontata questa mattina dal tavolo Salus et Spes, istituito dalla Prefettura per coordinare vaccinazioni anti-covid e campagne di screening. E una delle principali raccomandazioni, rivolte dalla ASL ai sindaci collegati online, riguarda proprio la gestione dei tamponi. Noi abbiamo chiaramente una scassità, specialmente del tampone molecolare, per cui va riservato a chi ha clinicamente un'indicazione, che sono le persone che hanno sviluppato sintomi. E chiaramente chi ha avuto un contatto con un positivo deve aspettare almeno 3-4 giorni di farsi un antigenico, perché se non sviluppa una carica virale andare il giorno stesso in farmacia non ha nessun senso. Nell'ultimo weekend del mese due open day per i vaccini anti-covid. Sì, è open day per l'iova 50, abbiamo già trovato l'adesione dei comuni di Francavilla e a Tessa e siamo in attesa di altri comuni che si associano col bene della salute pubblica.